L'argomento di oggi è particolarmente importante, si tratta del prodotto scalare. Esso si fa con due vettori e il risultato è uno scalare, da cui il nome prodotto scalare. L'operazione prodotto scalare si segna con questo puntino, con questo piccolo cerchietto. State attenti, non si tratta di una moltiplicazione, non è la moltiplicazione tra i numeri reali, l'operazione è completamente diversa, il prodotto scalare è un'operazione che gode della proprietà commutativa, cioè U, scalar V fornisce lo stesso risultato e il numero che viene associato a questo prodotto scaturisce dalle seguenti operazioni, Vx, Ux, più Vy, Uy. Facciamo un esempio concreto per vedere come si applica questo prodotto. supponiamo di avere il vettore 4,1 e il vettore U, 5, meno 2, allora il prodotto scalare V, U, si ottiene moltiplicando 4 per 5, più 1 per meno 2. e quindi lo scalare che è uscito adesso è un numero positivo ma con altri vettori può accadere che il risultato sia un numero negativo ma può anche accadere che valga 0. Quando può valere 0? Come sono fatti i due vettori il cui prodotto scalare vale 0? e 4,1 è facile convincersi che il vettore U definito in questo modo, per esempio, meno 1, 4, avrà come prodotto scalare 4 per meno 1 fa meno 4, più 1 per 4, 4, uguale a 0. 4, 1 è questo vettore, meno 1, 4 è invece quest'altro. L'angolo formato dai vettori V ed U sembra essere proprio 90 gradi e può risultare una coincidenza. In realtà, e lo vedremo meglio più avanti, ogni volta che il prodotto scalare di due vettori vale 0, quei due vettori saranno perpendicolari. Come ulteriore verifica questa affermazione, che però non ho dimostrato, consideriamo il prodotto scalare dei vettori I e J. I e J, ci ricordiamo come sono fatti, U1, 0, scalare 0, 1, e quindi, in base alla formula che abbiamo visto poco fa, devo moltiplicare 1 per 0, e trovo 0, più 0 per 1, 0. Ed i vettori I e J li abbiamo già incontrati, sono uno e questo qui, e l'altro e quest'altro, che risultano anch'essi perpendicolari. Continuiamo a fare esperienza con il prodotto scalare. Proviamo a calcolare il prodotto scalare di V con se stesso. Non è altro che Vx per Vx più Vy per Vy. E quindi, Vx al quadrato più Vy al quadrato. Questa formula ha una interpretazione geometrica piuttosto interessante. Infatti, se ci ricordiamo che cosa sono Vx e Vy, Vx e Vy, le componenti del nostro vettore V, dovremmo, senza grossa fatica, poter vedere che Vx e Vy possono essere visti come i lati di un triangolo o rettangolo. Allora, grazie al prodotto scalare e a quest'altra relazione, possiamo definire la lunghezza del vettore V attraverso questa relazione. Alcuni la indicano con la lettera V priva della freccia, altri scrivono così e leggono norma di V, altri invece scrivono modulo di V, ma noi preferiremo questa semplice scrittura e il modulo di V, appunto, viene definito attraverso la seguente relazione. V, scalare V, uguale, se avessimo avuto dei vettori nello spazio tridimensionale, quindi i vettori sono caratterizzati da una tripletta Vx, Vy e Vz, allora il modulo di V sarebbe nato dalla relazione Vx al quadrato più Vy al quadrato più Vz al quadrato. Però per il momento noi continuiamo a rimanere soltanto nel piano, quindi Vz per noi varrà 0. Ora possiamo chiederci quanto vale il modulo del vettore I? Il vettore I, ricordiamo ancora una volta, è il vettore 1, 0. Il modulo di questo vettore vale 1 al quadrato più 0 al quadrato e questo fa 1. E lo stesso vale per il vettore J che vale anch'esso 1. Ora, i vettori il cui modulo vale 1 sono anche detti versori. quindi un versore è un vettore di modulo unitario. Per quello che intendo mostrarvi adesso è importante che abbiate già fatto un minimo di trigonometria. In particolare basta sapere che in un triangolo rettangolo questo cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno di quest'angolo chiamiamolo alpa. Proviamo a fare il prodotto scalare del vettore V con il versore I. Il risultato di questa operazione come sarà fatto? allora ricordiamoci che VX VY rappresenta il vettore V scalare I I è fatto così 1 0 adesso devo moltiplicare tra loro queste due e sommarle al prodotto di queste due e il risultato sarà naturalmente VX. Questa scrittura ha una interessante interpretazione geometrica e cioè dato un vettore V e un versore I il prodotto scalare tra V ed I per quello che abbiamo detto risulta proprio essere VX ora è possibile mettere in relazione VX con V e il coseno di quest'angolo l'angolo formato dall'asse X mentre ruota e si sovrappone al vettore V chiamiamolo ALP la relazione esistente tra VX V ed ALP è la seguente VX uguale V per coseno di A se avessi fatto lo stesso discorso per V scalare J avrei trovato ancora V e V per quello che ho detto poco fa risultava essere state attenti al prodotto di V per il coseno di beta dov'è beta e quest'altro angolo qualcuno avrà notato che se sono nel piano quindi se rimango con il vettore V nel piano ALFA più beta mi danno 90 gradi quindi ALFA più beta mi danno l'angolo retto e questo significa per esempio che V posso scriverlo come V coseno di 90 gradi meno ALFA e questo sarà anche V seno di ALFA ora quello che abbiamo fatto è mettere in relazione le componenti del vettore VX e VY con gli angoli che forma il vettore con l'asse X e l'asse Y prima di andare avanti voglio farvi notare che questa relazione e anche quest'altra è piuttosto intelligente nel senso che noi sappiamo che VX e VY sono numeri reali possono anche essere negativi e quindi è possibile ottenere attraverso queste formule VX e VY anche negative vediamo un po' un tipico caso se il vettore V è quello che ho appena disegnato l'angolo ALFA che esso determina con l'asse delle X è il seguente allora la proiezione di V sull'asse X questa qui sappiamo che deve essere negativa se si trova a sinistra dell'asse Y ora in questa formula V essendo il modulo sarà sempre positivo il coseno di ALFA di quest'angolo qui essendo un angolo maggiore di 90 gradi risulterà essere proprio negativo quindi il segno della componente viene incluso automaticamente e ed ora arriviamo ad un'altra importantissima versione della formula del prodotto scalare è possibile dimostrare che partendo dalla V scalare U uguale VX UX più V Y UY ed usando le formule per VX UX VY e UY che abbiamo visto prima e che fanno uso dei vari coseni è possibile giungere a quest'altra formula una V scalare U uguale V U coseno di teta dove V è il modulo di V U è il modulo di U e teta è l'angolo compreso tra i vettori V ed U questa versione del prodotto scalare che non ho dimostrato mostra molto meglio una proprietà di quanto non faccia la formula precedente cioè questa infatti V U e coseno teta non fanno uso delle coordinate e quindi per trovare il prodotto scalare di V ed U non devo conoscere le coordinate di V e di U cioè per trovare il prodotto scalare di V e U non ho bisogno di introdurre il sistema di coordinate questo significa che cosa ecco mi trovo nel piano non è un piano cartesiano non esiste ancora un sistema di coordinate mi danno un vettore V un vettore U e mi dicono che l'angolo tra questi due vettori vale teta 60 gradi 60 gradi inoltre mi dicono che la lunghezza di V il modulo di V vale 15 il modulo di U vale 40 allora sono già in grado di trovare il prodotto scalare V scalare U uguale uguale 15 per 40 per coseno di 60 gradi e cioè 15 per 40 per un mezzo cioè 300 quindi il nostro prodotto scalare in questa forma ci mostra che esso è un invariante cioè appunto non dipende dal sistema di coordinate a questo punto abbiamo due formule per trovare il prodotto scalare una è questa che fa uso delle coordinate e poi questa altra che fa uso dei moduli dei due vettori e dell'angolo tra essi compresi questo significa che se le uso insieme posso capire quanto vale l'angolo formato da due vettori vediamo come un tipico problema potrebbe essere il seguente il vettore V ha componenti 4 2 il vettore U ha componenti meno 4 3 e desidero sapere quanto vale l'angolo che forma quest'angolo chiamiamolo teta V e V allora per quello che abbiamo visto poco fa il prodotto scalare di questi due vettori si può trovare sia attraverso la formula vx ux più vy uy ma anche attraverso la relazione v u coseno di teta ora il primo membro di questa equazione lo posso trovare facilmente v ed u posso trovarle e quindi coseno teta è uguale a vx ux più uy uy diviso diviso il modulo di v è naturalmente vx al quadrato più vy al quadrato per ux al quadrato più uy al quadrato uguale si trova che coseno di teta è uguale a e operando con il tasto coseno alla meno 1 cioè prendendo l'arcoseno di questa quantità di 0.44721 si ottiene l'angolo teta che è circa 116 gradi ora proveremo a risolvere un problema e ci tornerà utile il prodotto scalare supponiamo di avere due vettori e siamo interessati a determinare la lunghezza della loro risultante chiamiamola w di v più u per giungere a questo risultato occorre conoscere in anticipo quanto vale l'angolo tra questi due vettori supponiamo che ci venga dato che sia il solito teta per quello che abbiamo visto quando abbiamo studiato la somma di due vettori il vettore risultante v avrà componenti vx più ux e vy più uy il modulo del vettore w è dato per quello che abbiamo visto poco fa dalla componente x di w che in questo caso è vx più ux al quadrato più vy più ux uy uy più ux al quadrato uguale svolgiamo i prodotti ora basta notare che vx al quadrato più vx al quadrato non è altro che v al quadrato mentre ux al quadrato più uy al quadrato è u al quadrato e questi due prodotti invece sono il doppio rappresentano il doppio del prodotto scalare tra v e v in altri termini si può scrivere radice quadrata di v al quadrato più u al quadrato più due volte u scala v ma mi abbiamo finito per quello che abbiamo detto poco fa il modulo il modulo di w sarà quindi uguale a radice quadrata v al quadrato più u al quadrato più due volte v u coseno di teta e questa è una relazione estremamente importante che bisogna avere nella scatola degli attrezzi di matematica come ulteriore applicazione del prodotto scalare della sua utilità quando si trattano i vettori potremmo provare a risolvere quest'altro problema lo accenno solamente e i calcoli ve li lascio come esercizi abbiamo di nuovo due vettori v ed u si conosce l'angolo tra u e v e adesso ci interessa trovare il vettore prima ci siamo occupati della risultante u più v adesso ci interessa trovare il vettore w che si ottiene facendo la differenza v meno u dal punto di vista grafico abbiamo già imparato come è fatto questo vettore il vettore meno u sappiamo che è questo qui meno u e adesso faccio la somma tra meno u e v e trovo il vettore che stavo cercando e cioè questo qui w il vettore w è lo stesso se lo sposto è lo stesso che mi completa il triangolo allora lasciamolo qui quindi in definitiva trovare il modulo del vettore v significa trovare la distanza tra questi due punti cioè trovare la lunghezza del lato di questo triangolo ora vi lascio tutto ciò come esercizio bisogna ripartire da questo problema e sostituire alla somma la differenza e andare avanti il risultato finale sarà ancora simile a questo solo che invece del segno più dovrà apparire un segno meno ed ora passiamo all'ultima operazione che intendo mostrarvi oggi e si tratta del prodotto vettoriale il prodotto vettoriale riguarda due vettori e ha per risultato ancora un vettore il prodotto vettoriale di due vettori v ed u ed è denotato da questo simbolo che è una v rovesciata e ancora un altro vettore w vi dico subito che questa operazione non risulta commutativa cioè u vettore v mi dà il vettore meno v l'opposto di quello che avevo prima vediamo un po' come è fatto il vettore w una volta noti v ed u abbiamo due vettori v ed u e ci interessa determinare il prodotto vettoriale v vettore u per definizione questo vettore è diretto perpendicolarmente al piano in cui si trovano v ed u due vettori determinano sempre un piano in questo caso il piano è rappresentato dal plexiglass per cui il vettore perpendicolare a questo piano al plexiglass potrebbe essere o così o così oppure dall'altro lato solo uno di questi è quello giusto per determinare il corretto verso del vettore v vettore u immaginiamo immaginiamo di disporci con i piedi proprio in questo punto ecco questa matrioska rappresenta chi è interessato a determinare il corretto verso del vettore v vettore u adesso la matrioska deve limitarsi esclusivamente a valutare l'angolo che il vettore v esegue mentre ruota per sovrapporsi al vettore u l'unica cosa che deve valutare è se quest'angolo è inferiore a 180 gradi oppure maggiore di 180 gradi se è minore di 180 gradi allora il vettore v vettore u è diretto nella stessa direzione in cui sta la matrioska cioè così se l'angolo è maggiore di 180 gradi allora questo vettore è diretto in direzione opposta cioè così ripeto l'unica cosa che conta è valutare l'ampiezza di quest'angolo se è inferiore a 180 gradi la direzione corretta è questa quella in cui già si trova nel caso in esame quest'angolo è inferiore a 180 e quindi questa è la direzione corretta perché deve ruotare il vettore v e non il vettore u perché qui abbiamo scritto v vettore u quindi è il primo vettore a ruotare per sovrapporsi al secondo ma questa definizione per caso dipende da dove si mette la matrioska a determinare l'angolo di rotazione del vettore v voglio dire se la matrioska invece di essere qui fosse stata per esempio qui sotto e quindi se si fosse messa così sarebbe anche in questa situazione pervenuta a determinare il verso corretto di questo prodotto vettoriale che abbiamo detto è questo qui la risposta è sì per comprendere perché proviamo a ruotare il piano e da questa nuova visuale il vettore v si trova qui il vettore u si trova qui ma a noi interessa sempre determinare v vettor u che cosa fa ancora la matrioska prende il primo vettore e lo fa ruotare nel piano in cui si trovano v e u in senso anti-orario fino a sovrapporsi all'altro quindi l'angolo di cui ruota v adesso è questo qui è un angolo maggiore di 180 gradi e quindi la direzione di questo vettore qual è? è quello che abbiamo visto prima cioè in altri termini quando dobbiamo determinare il prodotto vettoriale v vettor u non ha nessuna importanza se il senso anti-orario rispetto a chi guarda è determinato osservando i due vettori da questo lato oppure da quest'altro il modulo del vettore v determinato dal prodotto vettoriale tra i vettori v ed u è definito è definito come il modulo di v per il modulo di u e per il seno dell'angolo compreso tra questi due vettori mettiamo il valore assoluto in maniera tale da assicurarci che w risulti essere maggiore di zero questa espressione risulta avere una immediata interpretazione geometrica infatti se questo è il vettore v e questo è il vettore v allora se costruisco il parallelogramma come abbiamo imparato due lezioni fa l'area di questo parallelogramma risulta essere dato proprio da questa espressione e questo come si può vedere si può vedere dal fatto che per esempio u sen teta è proprio la lunghezza di questo segmento che è il lato di questo triangolo rettangolo ma è anche l'altezza del parallelogramma pertanto il modulo del vettore v rappresenta proprio l'area del parallelogramma determinato dai vettori v ed u a differenza di quanto abbiamo visto finora poiché il vettore w non è nel piano determinato dai vettori v ed u è facile attendersi che il vettore w richieda per determinarlo di tre componenti una sull'asse x una sull'asse y e una sull'asse z si tratta di una formula piuttosto complicata proviamo ad examinarlo un po' alla volta lo scalare che moltiplica i è naturalmente vx lo scalare invece che moltiplica il versore j è vy y ed infine lo scalare che moltiplica il versore k è la componente di w sull'asse z allora se guardiamo attentamente l'espressione di vx notiamo che in questa formula non appaiono né vx né ux quindi le componenti x dei due vettori non appaiono quando ci interessa calcolare la componente x del vettore w in maniera analoga se ci interessa determinare la componente y di w in questa espressione non appaiono né vy ed anche per quanto riguarda la componente sull'asse z di w wz notate che in questa espressione non appare né vz né uz come si fa ad imparare questa formula? bisogna impararla a memoria piuttosto complicato me ne rendo corto tuttavia forse posso aiutarvi con un trucco per poterla facilmente ricostruire x y e z passeremo da x a y poi a z in senso anti-orario allora cominciamo con il determinare la componente vx qui abbiamo dei prodotti nel primo prodotto abbiamo una v una componente di v e una componente di u quindi abbiamo qui un v u e poi meno ancora una v ed una u quello quello che occorre fare è sistemare gli indici una volta che abbiamo deciso che ci interessa la vx la x qui non appare quindi appariranno y z soltanto e quindi iniziamo con il senso anti-orario y z e poi qui al contrario z y e abbiamo determinato wx adesso passiamo a w y e quindi abbiamo ancora un w u meno w u ripristiniamo un po' di pulizia adesso ci interessa la y quindi non appare la y e cosa appariranno z e x e cominceremo a scrivere procedendo in senso anti-orario z x e poi qui x z ed infatti è quello che appare qui e adesso continuiamo e ci avviamo al termine a determinare w z uguale quindi abbiamo una w u meno w u ci interessa abbiamo detto la componente z di w quindi questa sparisce procedendo da z in senso anti-orario proveremo x xy e quindi scriveremo x x y e poi il contrario y x x x